signori buongiorno a tutti e oggi per biellese territorio straordinario siamo nel comune di cerione a circa 10 minuti di strada dal centro della città dove in quest'oasi di pace assoluta tranquillità e verde come avete ben potuto vedere vi proporremo l'edificio che vedete alle mie spalle che è composto da due unità abitative completamente ristrutturata nuovo ristrutturazione ultimata nel 2019 si tratta di due unità completamente indipendenti di circa 280 metri quadrati luna con posti auto interno cortile auto rimesse e l'interno che adesso andremo a vedere completamente rifatto nuovo prezzi assolutamente interessanti tra poco li vedremo ma avete visto che bel contesto che abbiamo anche attorno qui è stato fatto anche nei dintorni tutto nuovo e fresco di restauro ora entriamo nella testata di schiera dove anche qui troveremo 280 metri quadrati circa di unità abitativa rimessa di proprietà deposito superiore due posti auto esterni cortile e anche qui è stato fatto tutto nuovo dalla z da cielo a terra a partire dal portoncino d'ingresso dove abbiamo sia un combinatore elettronico per aprire la porta d'ingresso principale o addirittura il riconoscimento dell'impronta digitale qualcosa di straordinario andiamo a vedere unità fine schiera sempre di 280 metri quadrati e come composta abbiamo un'unità al piano terreno che potrebbe essere tranquillamente una tavernetta dove abbiamo questa graziosa zona giorno cucina soggiorno in un unico ambiente il proprio bagno e la propria camera tra l'altro questo piano è stato tutto completamente allarmato e dotato di video sorveglianza saliamo di un piano troviamo l'unità principale degli attuali proprietari come composta di ingresso abbiamo zona giorno cucina e soggiorno che volendo si potrebbero anche ricavare in un unico ambiente bagno che quello che state vedendo completamente rifatto nuovo con affaccio nel nel cortile interno e volendo le camere da letto che sono due tramite quel bel terrazzo hanno l'affaccio sul verde di proprietà ultimo piano dove hanno ricavato la terza unità che è qualcosa di straordinario e la state vedendo lì è stato rifatto tutto da zero e a nuovo pavimenti serramenti impianto elettrico impianto idraulico il tetto come abbiamo già detto e ribadito è un'unità che volendo ha la sua bella zona giorno le tre camere da letto e servizio dotato di aria condizionata in tutto questo blocco misura 280 metri quadrati e per quanto lo vendiamo per soli 185 mila euro con una porzione di questo bel verde esterno due posti auto interni cortile e la propria autorimessa signori non smetteremo vai di dirvelo non credete a nulla venite a vedere coi vostri occhi se quanto diciamo corrisponde a verità e per questo biellese territorio straordinario da cerione tutto e noi di abita sempre movimento